Complice il sole, l'affluenza dei visitatori al cimitero di Avellino stamane è stata particolarmente sostenuta. Il picco raggiunto nei giorni del ponte di Ogni Santi, anche se gli addetti ai servizi cimiteriali hanno sottolineato che le visite si sono registrate nell'arco di tutta la settimana. Anche nei prossimi giorni il luogo del caro estinto si prevede affollato. Una distribuzione delle presenze che ha favorito il piano traffico disposto dal comune e dalla polizia municipale. La circolazione stradale è stata piuttosto fluida lungo le arterie che collegano il capologo al cimitero. I parcheggi pieni documentano il boom dell'affluenza. Così via vai di navette che hanno accompagnato anziani e diversamente abili. Sul posto oltre le sei pattuglie dei vigili urbani in servizio di controllo e prevenzione anche gli agenti di polizia. Tra i visitatori per una preghiera alle consorelle c'è anche il suo rirene. Unita ai nostri santi che pregano per noi. Loro già stanno alle glorie del colpetto di Dio e noi stiamo in cammino verso la patria celeste. Non ci sono distanze per omaggiare la memoria dei propri cari? Palermo. Da Palermo? Palermo sì. Mia mamma era di Avellino e quindi prima veniva a passare le vacanze. Oggi continuo a venire e vengo a ricordare i cari. Portato un fiore. Portato un fiore e devo dire che trovo il ceritello ben curato, abbastanza giusto e la degnità dei defunti. Non solo nei giorni solenni della commemorazione e la preghiera per i nostri cari non deve mai mancare. Io vengo sempre, ogni domenica, diciamo, quando io ho il tempo perché voi a casa sapete c'è sempre da fare, però mio marito è 20 anni e quindi io vengo sempre. Anche per fare perché lui non era amante dei fiori. Dice tu quando vieni mi devi portare il vino. Il vino? No, no, il vino dicevo che io apro la bocca e me lo bevo. C'è chi lancia un appello al comune finché intervenga per restaurare le antiche colonne all'ingresso del cimitero, danni ingabbiati dall'impalcatura. Purtroppo è dopo terremoto, ho avuto danni quando è successo il terremoto nell'80, però è rimasto così, non è stato mai restaurato. Eppure è un ingresso monumentale, è una cosa bella. Penso che per una città il rispetto dei morti abbia un valore enorme per le città e quindi questo ingresso qua io penso che il comune dovrebbe fare qualcosa per restaurarlo.